Un dato politico fondamentale è che Renzi e i suoi possono tranquillamente stare seduti nel loro salotto, in particolare Renzi e Palazzo Chigi, perché ci abbiamo già pensato noi, non è necessario che depositino le firme, l'abbiamo fatto noi e per l'esatto motivo opposto per cui l'avrebbe fatto il Presidente del Consiglio. Noi diciamo no ad una riforma che fa cadere questo Paese nel caos perché rende complicatissima la gestione della produzione delle leggi, ma soprattutto fa cadere il Paese ancora di più nella corruzione perché sappiamo tutti che i nuovi senatori saranno i consiglieri regionali che rappresentano la categoria politica più corrotta del nostro Paese. Questi signori, e la maggioranza è solo di 51, avranno in mano la Costituzione, la legge elettorale e in pratica tutte le regole democratiche del nostro Paese. Quindi stiano tranquilli, ci abbiamo pensato noi, ci abbiamo messo pochissime ore, quindi lui va davanti a fare il suo mestiere o meglio se si ferma è ancora meglio.